Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come cambiare la schermata d'avvio della nostra Taranis. In questo video userò una QX7, ma il procedimento è lo stesso per la X9D. Per fare questa operazione ci servirà un cavetto mini USB per collegare la radio al PC e una scheda microSD per contenere i file che andremo a scaricare. La prima cosa da fare sarà andare nel sito opentix.org Digitiamo nella barra degli indirizzi del nostro browser open-tx.org e premiamo invio. Adesso dobbiamo scaricare l'opentx companion, andiamo in downloads, clicchiamo su opentx 2.2.0 e scendiamo verso il basso fino ad arrivare a opentx companion 2.2.0 e lo scarichiamo. Una volta scaricato il companion possiamo installarlo. Clicchiamo su accetto, avanti, scegliamo il percorso e installa. In questo menu è importante scegliere l'esatto modello della nostra radio in modo che il software riesca a ridimensionare correttamente la schermata di avvio. Quindi visto che ho una QX7 qui sceglierò frsky taranis x7. Poi clicchiamo su ok. Adesso è venuto il momento di lavorare con le immagini. Possiamo crearne una con il nostro programma di grafica preferito oppure ne possiamo scegliere una dal nostro computer. Come abbiamo detto la dimensione dell'immagine non è importante perchè ci penserà il software a ridimensionarla. Quello che dobbiamo fare noi invece è salvarle come un bitmap monocromatico in modo che la visualizzazione risulti ottimale. Quindi scegliamo le nostre immagini e le apriamo con Paint. Adesso andiamo in file, salva con nome e qui scegliamo bitmap monocromatico. Quindi facciamo salva, diamo ok e diamo ok. Apriamo un'altra, andiamo su file e salva con nome. Qui ancora bitmap monocromatico, salva. Adesso che abbiamo convertito le nostre immagini possiamo collegare la Taranis al computer. Inseriamo la micro sd in questo verso. Premiamo questi due trim verso l'interno e accendiamo. Adesso colleghiamo il cavo usb alla radio e al computer. Adesso siamo pronti per salvare la schermata di avvio nella nostra Taranis. clicchiamo la terza icona dal basso in questa fila qua e scegliamo usa schermata di avvio alternativa. Quindi scegliamo una delle immagini che abbiamo salvato prima. Poi clicchiamo scrivi sulla radio. Quindi chiudi. Adesso possiamo scollegare la radio dal computer. scolleghiamo il cavo usb. e andiamo su exit. Come vedete all'avvio viene caricata l'immagine che abbiamo scelto. Questo era il mio tutorial su come cambiare la schermata di avvio della Taranis. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Grazie a tutti. Grazie.